Buonasera, bentrovati ad una nuova puntata di Pixel, l'ultima prima di fermarci per le festività. Tempo di bilanci anche per l'amministrazione comunale, per la nostra città. Vogliamo parlare questa sera dei grandi dibattiti che hanno tenuto Banco dell'Aula del Consiglio Comunale e vedere anche quali saranno le prospettive per il 2015. Tanti i temi, parleremo dei consigli di quartiere, parleremo del campus, del registro per le coppie di fatto e tanti altri. Vi presento subito i nostri ospiti a partire da Fabio Capra. Buonasera. Buonasera. Capo gruppo del Partito Democratico in loggia. Buonasera e benvenuta anche a Maria Chiara Fornasari, che è la coordinatrice cittadina di Forza Italia, ma è già stata in consiglio tra i banchi del Consiglio Comunale di Brescia. Buonasera. Benvenuto anche al collega del Brescia oggi, Mauro Zappa, qua con noi per animare il dibattito e incalzare con le domande i nostri ospiti. Dicevamo tanti gli argomenti, bisogna anche capire quali partite importanti si porteranno nel 2015, ma iniziamo subito parlando della notizia più recente, quella dei consigli di quartiere. Il 14 dicembre si è votato per questi nuovi organismi che sostituiscono le circoscrizioni e qua c'è un primo dato. Da una parte le opposizioni che dicono che è stato una flop, dall'altra parte invece c'è la maggioranza soddisfatta del risultato ottenuto. Il 10% delle persone che hanno diritto al voto si sono recate alle urne e quindi da qui partiamo. E io prima di dare la parola al nostro Fabio Capra, che giusto qualche giorno fa ha tenuto una conferenza stampa snocciolando numeri importanti, che penso ci ripeterà, vado subito all'opposizione per chiedere consigli di quartiere. Flop o flap, come l'ha definito lo stesso Fabio Capra? Io non userei toni né drammatici ma neanche trionfalistici come le parole che abbiamo sentito uscire dalla bocca del Sindaco, della Giunta e della Presidente di Commissione Parmigiani. Perché il dato che il Sindaco spaccia per essere stato un successo io lo leggo in chiaroscuro, cioè non lo leggo come il 10% ma lo leggo come 9 cittadini su 10 che hanno bocciato questa consultazione. Io non posso che ribadire la nostra posizione, la posizione di Forza Italia, che è quella di profondo fastidio e delusione per il fatto di essere stati tagliati completamente fuori dal dibattito. O meglio, il dibattito c'è stato e i nostri consiglieri comunali, in primis il capogruppo Margaroli, si è battuto come un leone in consiglio comunale fino alle 6 della mattina per difendere le ragioni del centro-destra e di Forza Italia sui consigli di quartiere. Ecco, qui l'attuale maggioranza è stata sorda e cieca, nel senso che non ha voluto accogliere nessuna delle nostre istanze, nessuna delle nostre proposte, né quelle che andavano a scardinare l'impianto di queste consultazioni come lo aveva voluto il centro-sinistra, leggasi il voto agli immigrati o al voto ai minorenni rispetto al quale noi siamo stati e siamo profondamente contrari, ma neanche su partite più marginali come potevano essere ad esempio il quorum o altri elementi che francamente non avrebbero distrutto l'impianto e la struttura dei consigli di quartiere così come voluti e poi realizzati dalla maggioranza di centro-sinistra, ma avrebbero rilassato i toni tra le due, come dire, parti della loggia, la destra e la sinistra della loggia e allora non si sarebbe assistito a questo scontro frontale così forte che poi effettivamente ha portato al risultato che abbiamo letto. Quindi se ci fossero state queste premesse, il risultato sarebbe stato diverso? Sicuramente ci sarebbe stata una nostra partecipazione, un nostro interessamento completamente diverso rispetto al disimpegno che noi abbiamo dichiarato di esercitare come partito. Ascolta Mauro perché dopo io voglio che tu vada a pungolare i nostri ospiti. Fabio Capra, allora 9 su 10 vi hanno bocciato. Ma in un momento nel quale la partecipazione al voto è addirittura ridotta ai minimi termini, aver avuto 16.500 persone che in una domenica di dicembre, fredda, piovosa, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, si sono recate a eleggere i loro rappresentanti in 30 seggi scomodissimi e non nei 200 in cui siamo abituati ad organizzare le elezioni politiche e amministrative della città. Ripeto, 200 seggi nelle scuole contro i 33 seggi nei centri civici e nelle sedi di quartiere. È stato un successo che va oltre le mie personalissime aspettative. Ricordo che in quella notte in cui discutemmo di luglio dei consigli di quartiere, ci fu proposto da parte dell'opposizione di accettare fra le quattro proposte un quorum minimo del 4% che io personalmente, Fabio Capra, avrei accettato, l'ho detto, lo sanno i miei amici, ma che non fu condiviso dagli altri gruppi di maggioranza, perché sono abituato a fare le battaglie. A me l'asticella più è alta, più diventa vincente la battaglia. Quindi l'avrei messo tranquillamente, e l'ho detto, e ci sono dei verbali che lo dicono, l'avrei messo tranquillamente a 7-8%. Per quale motivo? Uno, perché noi siamo forze di governo e dobbiamo trascinare le persone su un progetto che si vuole dare e sul quale si vuole strutturare la città. Ne sono andati più del 10%. Questo mi appaga. Se considero che è stato fatto con spese davvero ridicole, le elezioni amministrative in una città hanno un costo che varia fra i 300 e i 400 mila euro, fra seggi, scrutatori, ore straordinarie, materiali e quant'altro. Abbiamo speso 30-40 mila euro a far tanto, peraltro torti dalla voce delle comunicazioni e non da altre voci del bilancio. Quindi l'idea che 500 persone si siano candidate, che 2200 persone abbiano sottoscritto queste candidature e che siano stati preferenziati con risultati altissimi, 229 persone, è un risultato che ci appaga. Ricordo che in Consiglio Comunale ci chiedevano Forza Italia di non fare le elezioni ma di nominare i rappresentanti. La Lega ci chiedeva di non fare le elezioni ma di cooptare i rappresentanti. Il Movimento 5 Stelle è addirittura arrivato a proporci di non eleggere i rappresentanti ma di sorteggiarli, che siamo al paradosso delle modalità per cui dare una rappresentanza ai quartieri. Noi abbiamo scelto la strada più difficile. Vale a dire, in un momento nel quale anche a livello nazionale si parla di mettere alle preferenze, noi come PD peraltro abbiamo voluto non liste bloccate al numero degli eletti, 5 candidati, 7 candidati, 11 candidati. Abbiamo addirittura noi fatto un emendamento che alzava la lista perché fosse valida del 30% in più perché volevamo dare valore alla preferenza e questo è avvenuto. Quindi non sono le liste in tutti i quartieri ma in alcuni quartieri anche liste maggiori. No, in tutti i quartieri c'era un numero superiore agli eletti, del 30% perché l'abbiamo voluto per dare impegno e forza di rappresentanza. I cittadini se si recono alle urne a scegliere i loro candidati, non è che devono scegliere 5 fra 5 per quale motivo andiamo a votare, deve scegliere 5 fra i più. Ricordo che in alcuni quartieri, mi pare sia Porta Cremo una volta, che peraltro è anche il più popoloso della città, dove c'erano addirittura 25-26 candidati su 11 eletti. Questo mi pare un risultato davvero straordinario. Ora che le elezioni sono avvenute, tutti e 33 i quartieri hanno una loro legittimazione. Ci sono state lette 229 persone alle quali noi chiediamo di prendersi cura, come il Consiglio Comunale della città, perché in una città dove si tende a non partecipare, dove le associazioni perdono una loro rappresentanza, dove il Consiglio Comunale è lasciato alle sorti del dibattito tante volte cruenti in Consiglio Comunale, sapete che ci sono 229 persone in più, donne e uomini, stranieri e italiani. Qui finisco. E due minorenni. E due minorenni. Qui finisco su un aspetto che è la differenza forte fra noi e soprattutto la Lega. Noi abbiamo fatto una battaglia di civiltà, aprendo il voto, la possibilità di voto anche agli stranieri, peraltro usufruendo di una proposta nazionale della Lega che attorno a determinate condizioni prevedeva 5 anni di residenza nel Comune. Noi abbiamo dato la possibilità a più di 30 mila cittadini non italiani che sono qui da tempo, che producono il 10% del PIL, che lavorano. Un marciapiede non è italiano o straniero, non è di centrodestra o di sinistra, è un problema della città. Non è stata una partecipazione da parte loro molto importante e questo io me l'aspettavo perché vanno anche educati, ma è stato aperto un piccolo spazio, una piccola porta nella quale chi vuole crescere assieme a noi ha la possibilità di partecipare. Mauro, dal punto di vista giornalistico era prevedibile un risultato così o c'erano altre ipotesi? Visto anche tutto il dibattito che c'è stato. Io personalmente ritengo che il 10% abbondante che è l'esito da un punto di vista dell'affluenza delle elezioni di domenica 14 dicembre sia un risultato per me oltre le aspettative. Sono convinto che le opposizioni credevano e forse speravano in un risultato inferiore così come sono convinto che la maggioranza che sostiene Emilio Delbono non sperasse nel superamento di una barriera del 10% che effettivamente a me viene da questo punto di vista di essere d'accordo con Fabio Capra non è poco. È vero che, come dice Fornasari, 9 cittadini su 10 non sono andati a votare. E' vero però che i seggi erano pochi e soprattutto il momento da un punto di vista della disaffezione verso la politica è molto forte. Fermo restando che la connotazione puramente politica che potevano e dovevano avere questi consigli di quartiere è un po' venuta meno secondo me per il tipo di discussione che è nato in consiglio comunale durante la fase di gestazione del progetto. Cioè nel senso, io sono convinto che poteva essere un'occasione di bipartisan per lavorare su questi nuovi organismi, poi al di là delle responsabilità che probabilmente sono da condividere fra le due parti, è diventata invece l'occasione per scavare una trincea. Cioè ne è nata davvero una frattura per una questione proprio di sordità rispetto alla capacità di trovare in qualche maniera un accordo e un modo per proseguire insieme il percorso. Il fatto è che adesso ci sono questi consigli di quartiere da qua bisogna... Esatto, credo che si possono anche migliorare. Io ho lanciato un invito e credo che Maria Chiara Fornasari potrà sicuramente fare qualche cosa. Una volta che abbiamo sotterrato l'ascia di guerra, io ho voluto che la delibera portasse come primo elemento la provvisorietà e la sperimentazione di questo strumento. Spero che con le commissioni tematiche e con i tre anni che hanno davanti si arrivi ad un modello condiviso anche prima della prossima scadenza elettorale, così che i prossimi siano condivisi da tutti. Se vogliamo che la gente sia propri e sia passioni non alla politica ma alla propria città, è la cosa diversa. Guardate che già cinque di questi dieci non sono andati a votare alle politiche, alle europee, alle amministrative. Quindi il conto casomai lo facciamo da uno a cinque, non da uno a dieci. Ma io sono preoccupato sia di questi quattro sia degli altri cinque e dobbiamo partire dal basso dove i problemi sono vissuti da tutti. Sfida raccolta, seppegliamo questa ascia di guerra? Io raccolgo sempre qualsiasi tipo di sfide e sono per mia natura una persona conciliante e dialogante, tanto che prima della pausa estiva il coordinamento cittadino di Forza Italia fece una conferenza stampa spiegando tutta una serie di proposte che avrebbero potuto a nostro avviso migliorare l'impianto pensato dalla maggioranza in loggia dei consigli di quartiere. Addirittura avevamo proposto di avvicinare ai consiglieri eventualmente eletti anche due consiglieri comunali delegati, quindi affiancarli non solo i consiglieri comunali delegati, quindi nominati, preferibilmente nemmeno residenti in quel quartiere in modo che potessero essere non persone che portavano poi con sé un bagaglio rispetto al proprio territorio ma che si ponessero in maniera assolutamente neutra come interfaccia tra i cittadini e la loggia. Sono contenta che Fabio Capra sia soddisfatto della partecipazione di aver ascoltato i cittadini, se avesse ascoltato anche un po' di più i partiti di centro-destra che non sono dei pazzi, barricaderi che fanno delle battaglie perché si divertono in consiglio comunale ma talvolta dicono anche delle cose intelligenti ed accoglibili. Quindi invito a mia volta il capogruppo Capra a spronare il proprio gruppo e l'assessore Fenaroli in questo caso col medesimo buonsenso che ha appena espresso, quindi quello di ascoltare e di accogliere le opinioni e le idee anche del centro-destra. Io credo che questo si possa fare fin da domani, c'è solo una condizione che pongo in questo dibattito, che non si facciano questioni di partito. Mi spiego perché l'alternativa, la lista unitaria, erano le liste di partito. Non esiste che a Bufalora, dico perché il mio quartiere, si faccia una battaglia per potenziare il quartiere attraverso le rappresentanze di partito. Io ho fatto parte della storia dei quartieri del 1973 e sono nato lì come classe dirigente. I cittadini devono non essere imbrigliati dentro nelle condizioni di partito, dopo sarà la politica che fa il resto. Siccome abbiamo la pubblicità che incombe, su questo commento, Mauro, abbiamo... No, volevo semplicemente aggiungere che credo che la vera sfida adesso a elezioni passate sia dare una funzione effettivamente efficace a questi consigli. Dipenderà, credo, dalla buona volontà di tutti, a cominciare dal Consiglio Comunale e quindi sia dalle opposizioni che dalla maggioranza. Francesco Noffri, di Piattaforma Civica, ha espresso perplessità sulla capacità della macchina comunale di reggere l'onda d'urto di 33 nuovi organismi che sollecitino e pongano domande all'operato dell'amministrazione comunale. Credo che in realtà adesso la vera sfida sia quella di fare in modo che tutto il percorso che ha portato fino ad oggi sia un percorso davvero virtuoso, cioè nel senso che dia dei risultati concreti. Credo che sia una questione che tutti dobbiamo augurarci perché credo che possano rappresentare una possibilità interessante. Ci lasciamo quindi con questo percorso iniziato, andiamo in pubblicità e poi torniamo con un altro percorso che è stato lasciato, io non ho capito ancora a che livello, quello del registro delle copie di fatto. Quindi a tra poco. Grazie. Ritorniamo a parlare quindi delle questioni delle quali si è dibattuta in Consiglio Comunale. Io ho lanciato prima della pubblicità la questione del registro delle copie di fatto. Mauro aiutami. Quindi il registro delle copie di fatto anche a livello italiano manca una normativa che possa allinearci a quella che è l'Europa. Renzi ha annunciato che avrebbe fatto qualcosa in tal senso e in questo discorso si inserisce anche il dibattito cittadino che però al momento è un po' fermo se ne è parlato. Ma in realtà non è esattamente fermo, procede diciamo non velocissimo e con qualche problema, qualche ostacolo. È un tema secondo me interessante. Da un punto di vista politico può rappresentare davvero un momento della verità, sia per quello che riguarda il Partito Democratico che al suo interno ha due componenti più o meno forti nella stessa maniera, una componente cattolica e una componente laica. Il segretario cittadino del Partito Democratico recentemente durante un'amichevole chiacchierata mi ha detto che dal suo punto di vista il Consiglio Comunale di temi come questi in realtà non dovrebbe probabilmente occuparsene. È una questione che va prima risolta a livello nazionale attraverso una legge che regolamenti in qualche maniera un vuoto che è un vuoto tutto italiano perché bene o male tutti gli altri paesi europei in un senso o in un altro una regola se la sono data. Noi siamo in questo limbo. E qui è lasciata la bontà delle amministrazioni perché so che alcune amministrazioni, alcuni comuni hanno già provveduto. Sono più di cento i comuni in Italia che hanno istituito il registro delle coppie di fatto. Ecco, io la domanda che voglio fare è questa. Se ne è discusso in Commissione Statuta. La linea che sembra emergere è quella dell'invito a presentare una mozione in Consiglio Comunale, una sorta di invito e quindi non una delibera. dietro questo tipo di atteggiamento chiedo a Fabio Capra e chiedo anche a Maria Chiara Fornasari. C'è il tentativo di evitare uno scontro non solo tra maggioranza e opposizione ma all'interno dello stesso Partito Democratico? e chiedo a Maria Chiara Fornasari, come si pone Forza Italia rispetto alla questione dei diritti civili? Innanzitutto assicuro che non c'è alcuno scontro all'interno del PD. Laici lo siamo tutti e 14, 15 con il sindaco in politica. Un conto è il laico e un conto è il laicista, ma posso assicurare che tutti i consiglieri comunali sono impegnati a dare una risposta intelligente e non ideologica al tema. Il mio impegno di caporupo in questi otto mesi da quando è stata presentata la mozione, la mozione, la petizione, che peraltro ricordo non parlava solo ed esclusivamente del registro, ma faceva una serie di richieste iniziando con un doveroso rispetto dei diritti di tutti e di non discriminazione in nessuno dei servizi che il Comune eroga per i cittadini. E questa mi pare una premessa intelligente. Quindi, detto che non c'è nessuna divisione, il capogruppo, che cosa sta facendo assieme al gruppo? Innanzitutto abbiamo approfondito il tema, abbiamo sentito avvocati, notai, abbiamo approfondito il regolamento anagrafico, abbiamo svolto tutta quella opera di preparazione che il Consiglio Comunale deve fare. Cioè noi non andiamo in Consiglio Comunale su questo tema e ci andremo a fare le battaglie ideologiche. Non sono delle bandierine da alzare o da mainare. Sono temi importantissimi che peraltro, e qui mi porto avanti, poco attengono alla competenza comunale. Poco attengono alla competenza comunale. E quindi a me, e se c'è un ritardo, forse è dovuto anche al fatto che tutti, di fronte ad alcune affermazioni e anticipazioni del Premier Renzi che diceva presenteremo una proposta di legge, siamo in attesa anche di questa. Perché io credo che sia giunto davvero il momento che in questo Paese si vanno a disciplinare situazioni che si chiamano di fatto perché sfungono a qualsiasi norma del codice. E che ci sono anche a Brescia tante situazioni sia di coppie eterosessuali, che sono a stragrande maggioranza, sia di coppie omosessuali, che ormai convivono e che hanno una situazione che va regolamentata. Che cosa ci siamo accorti nell'approfondire in questi mesi? Che la nostra anagrafe non fa discriminazione e non c'è una distinzione netta fra una fattispecie ed un'altra fattispecie. È l'aspetto applicativo che dei singoli regolamenti che regolano i singoli servizi che vanno uniformati e riferiti ad un concetto di coppia, ad un concetto di famiglia. Il gruppo consigliare sa benissimo qual è la famiglia. L'articolo della Costituzione che regola la famiglia, che dice che cos'è la famiglia, ma su questo noi non vogliamo spostare nulla di tutto ciò. Si tratta di essere realisti e di prendere coscienza che migliaia di cittadini hanno prospettato al Consiglio Comunale un tema. Noi, laici o cattolici che siamo, abbiamo il dovere di dare una risposta. E la risposta la daremo, uno, rispettando la legge nazionale, due, rispettando i regolamenti comunali. Se i regolamenti comunali dovessero, e lo verificheremo nei prossimi giorni, presentare, come mi è già stato detto, per esempio nel regolamento cimiteriale, prendo il più brutto, santo Dio, ma per dire che si parla di coniuge, che può fare una cosa rispetto ad un altro, è evidente che lì c'è una discrepanza, perché nemmeno i due anziani non sposati, che vivono insieme, che sono una coppia di fatto, muore uno, non può l'altro far valere una determinata richiesta, per esempio avere la tomba più bassa invece che la tomba più alta, perché ha qualche problema di mobilità. Perché il regolamento cimiteriale parla di coniuge. Io credo che un Consiglio Comunale può verificare tutti questi regolamenti, e senza fare battaglie ideologiche, dagli un'occhiata, uniformarli. Altro è la questione delle coppie omosessuali, sulle quali, voglio dire, aspettiamo anche una legislazione nazionale che faccia alcuni, che detti alcuni principi, perché è giustissimo, lo dico da cattolico credente, osservante, anche per queste situazioni, dare un minimo di regolamentazione e il massimo dei diritti che si possono dare. Quindi siete in una fase di verifica, di quello che sono i regolamenti? Noi la verifica e lo studio, è stato uno studio molto approfondito. 13, 14 consiglieri hanno studiato tutte le leggi, tutti i regolamenti, abbiamo fatto due workshop, abbiamo sentito il segretario comunale, abbiamo sentito il dirigente dell'anagrafe per capire che cosa succedeva. Ho già detto in Consiglio Comunale, lo dico qui, che non siamo favorevoli di introdurre il registro. Per quale motivo? Perché non serve a nulla. Non dà un di più rispetto alle necessità della coppia di fatto. Nei comuni dove è stato dato 195, 175 su 8 mila, è stato un elenco di persone che vanno ad iscriversi, ma che poi da lì non discende un diritto reale, un di più rispetto ai diritti. Io credo che invece al di là, credo anche che qualcuno viva di conquiste simboliche che riempiono lo spirito e quindi io rispetto anche le associazioni che fanno queste battaglie, ma noi interessano regolamenti, interessano risultati concreti. Quindi la sostanza. La sostanza, perciò a tutti coloro che hanno firmato daremo una risposta come giusto che sia, faremo la nostra parte, di più faremo in modo di creare le premesse perché attorno a questo discorso ci sia una condivisione, non sarà al 100% il Consiglio Comunale, non intendiamo chiuderci dentro il nostro spazio e fare battaglie ideologiche, non servono a nessuno. Io devo dire che inaspettatamente, anche se solo parzialmente, condivido quanto detto dal capogruppo Capra, nella misura in cui ci sono competenze nazionali e ci sono competenze comunali. I comuni non vanno a riempire i vuoti normativi, non è il loro compito. Regolamentano laddove la legge nazionale li delega a farlo. Quindi che un comune istituisca un registro di qualsiasi natura che contenga qualsivoglia informazione non crea un diritto. Quindi se anche il comune di Brescia decidesse di istituire un registro in cui inserisce i nomi delle coppie di fatto, eterosessuali o omosessuali che siano, non creerebbe per queste persone dei diritti. Perché la legge nazionale oggi non prevede questo. Ci sono tutta una serie di istituti giuridici che permettono di tutelare l'uno con l'altro, le coppie che sono di fatto. Ma sotto il costrutto giuridico coppia di fatto, la legge pace. Quindi questo per quel che riguarda secondo me la competenza comunale. La posizione di Forza Italia sui diritti civili. Io credo che Forza Italia, anzi posso dire con certezza che Forza Italia ha fatto una svolta, ha fatto una grossa apertura da qualche mese a questa parte a tutto quello che è il mondo dei diritti civili. Quindi diciamolo pure apertamente il mondo delle coppie omosessuali. Prima non se ne parlava, era un po' un tabù. Chi ne parlava lo faceva in silenzio. Io per prima, io sono estremamente liberale e da sempre mi sono dichiarata favorevole alla possibilità delle unioni omosessuali. Ho una sua dichiarazione, l'interrompo, per questo è il 2012 sul social network dove lei è particolarmente attiva. Se io fossi stata in consiglio comunale a Milano avrei votato sì al registro delle unioni civili. Smettiamola di ignorare il fatto che gli omosessuali hanno i nostri stessi. Lo sono, lo confermo, lo sottoscrivo perché lo penso ancora nel senso che il registro in sé purtroppo non ha nessuna funzione. Se però è l'inizio di un percorso, di un'apertura, di una sensibilizzazione ben venga, ma ripeto come tassello di partenza. Quindi io sono ancora favorevole in questo senso all'apertura alle unioni omosessuali. In questo senso anche Forza Italia si è aperta perché ha istituito da poco il Dipartimento di Diritti Civili e Mara Carfagna, l'onorevole Mara Carfagna, che lo presiede, lo guida e sta istituendo un coordinamento dei centrati in tutte le regioni in tutte le regioni d'Italia, in Forza Italia, di questo Dipartimento. Perché anche a noi non interessa affrontare in maniera ideologica o fare un totem in uno o in un altro senso di questo argomento. Perché neanche alle categorie interessate o ai singoli interessati servono le battaglie ideologiche. Le battaglie ideologiche fanno paginone, fanno titolone sulla stampa ma poi non servono a nessuno. Il vuoto che hanno momentaneamente coperto dal gran frastuono il giorno dopo resta. Io sono assolutamente convinta che i tempi siano maturi perché anche l'Italia prenda in mano la situazione e tendenzialmente normi questo tipo di unioni che non sono affatto una minaccia per la famiglia tradizionale né in senso cattolico né in senso non cattolico perché ricordo che il matrimonio è un negozio giuridico prima ancora che essere l'abito bianco e la navata della chiesa. Quindi è un istituto civilistico. Se vogliamo incentivare e aiutare le famiglie tradizionali facciamolo con gli strumenti che abbiamo. Aumentiamo le deduzioni fiscali, le detrazioni fiscali inseriamo il coefficiente familiare che cambia la tastazione per cui paghi le tasse in funzione di quante persone fanno parte della tua famiglia, quanti figli hai e via dicendo come fanno in tanti paesi del nord Europa dove ad esempio banalmente io penso alla Svezia perché la conosco paghi la retta scolastica sempre meno rispetto a quanti figli hai così come l'abbonamento dell'autobus e tutta una serie di servizi. Questo va nella direzione di tutelare e incentivare e agevolare la famiglia tradizionale che ribadisco non è dal mio punto di vista minimamente messa in discussione che sono messa in pericolo dall'esistenza di coppie di fatto evidentemente di natura omosessuale. Non abbiamo risposto alla domanda di Zappa però. Ma gliela faccio rispondere dopo la pubblicità la tenga ai serbo perché tra pochissimo. Mi sono dimenticato perché chiedeva del procedimento. A tra poco. Eravamo rimasti alla cosa succede adesso diceva Capra. Promozione, delibera. La gente chiedeva che cosa succede. Noi abbiamo fatto una commissione nel Statuto nella quale si sono ascoltati coloro che hanno presentato la petizione. Devo dire che è stata anche un'illustrazione molto bella, molto intelligente, puntuale, che mi ha soddisfatto. Il Presidente della Commissione Statuto che è poi il Presidente del Consiglio Comunale presenterà una relazione. Quindi ci sarà una seconda commissione nella quale discuteremo del tema e verrà redatta una relazione che andrà in Consiglio Comunale. Ecco, lì in Consiglio Comunale stabiliremo che cosa succede. Perché il Consiglio Comunale può bocciare la petizione, può rinviare alla giunta la petizione per le competenze della giunta e poi rinviarle in commissione per vedere che cosa fare. Ecco, noi saremo molto attenti a ciò che succederà in Consiglio Comunale anche rispetto alle proposte che faranno le altre forze politiche perché vogliamo dare risposte a questo tema qua. Non siamo sordi alla richiesta di discriminazione che c'è, che non c'è, che alcuni diritti sono calpestati. No, i cittadini devono essere trattati tutti alla stessa maniera, per cui molto responsabilmente faremo questo secondo tragitto e a tempo debito noi non vogliamo tirare il freno. Possiamo farlo anche già a gennaio nel primo Consiglio Comunale che si terrà a gennaio. Questo risultato lo faremo, ripeto, andando a visitare tutti i regolamenti e a modificare quelli che dovessero presentare delle contraddizioni e di una mortificazione dei diritti delle coppie. etrosessuali e anche omosessuali perché secondo noi il problema è il medesimo. A me fa molto piacere aver ascoltato le parole di Fornasari. Mi auguro, mi auguro che il capogruppo in loggia di Forza Italia Mattia Margaroli la possa pensare nello stesso modo in maniera tale da trovare una sorta di... Di accordo. Sì, di comune sentire rispetto all'argomento. Ho qualche dubbio perché parlando con Margaroli poco tempo fa mi sembrava che il suo fosse un atteggiamento di fortissima chiusura rispetto a qualsiasi ipotesi. Per cui vediamo, insomma, se... Posso fare solo una... Prego. Una precisazione io penso che il campo si possa sgombrare facilmente dal dubbio nel senso che le posizioni anche in Forza Italia come nel Partito Democratico sono diverse perché diventa quasi un tema etico sotto certi aspetti assume le sembianze di un tema giuridico ma di base è un tema etico e come tale non si può pretendere che tutte le anime di un partito facciano sintesi come su altri temi economici ad esempio o di altro genere. Ribadisco di non essere particolarmente favorevole o calda sul registro perché non serve quindi se il mio gruppo deciderà come è possibile di votare contrario all'istituzione del registro non avrà me favorevole al registro proprio perché non ha un'utilità giuridica non ha un'utilità per queste... non norma questo tipo di situazioni quindi la posizione sarebbe la medesima. Perfetto. Allora adesso ripartiamo però da Margari Fornasari perché recentemente è nato l'attacco sulla questione del campus e quindi qua cambiamo cosa ne sarà di questo campus allora 13 milioni di euro sono stati stanziati dal ministero per questo progetto il progetto però deve essere presentato entro fine genna... febbraio? I primi di febbraio. I primi di febbraio. Ma allo stato attuale non c'è un progetto non... vogliamo capire se c'è un'intenzione di procedere non procedere servirebbero altri 9 milioni oltre a questi 13 per... Non ha Fornasari? Guardo anche lei perché servirebbero altri 9 milioni messi dalla loggia. Non abbiamo paura il sindaco è stato... Non lo volete? No, non è che non lo vogliamo il sindaco è stato molto chiaro è inutile nascondersi dietro il vetro e delle cose di queste cose qua. Allora noi siamo arrivati a mala pena a mala pena a chiudere il bilancio 2014 vendendo in otto tempo lo 0,25% delle quote di A2A perché dovevamo rispettare il patto di stabilità e dovevamo ovviamente far mettere in equilibrio il bilancio. Ora noi avremmo dovuto avere già fin da adesso un milione di euro per il progetto e dovremmo mettere a disposizione alla presentazione del progetto in parte capitale nel bilancio 2015 gli altri 9 milioni lo dico in dialetto gay on mia sapete cosa vuol dire gay on mia? Lo sappiamo lo sanno anche da casa gay on mia non li abbiamo allora il problema è uno solo ci sono delle priorità in questa città sì il campus viene al primo posto per noi no anche se è una bellissima cosa se dovessimo avere un avanzo di bilancio non voglio fare la solita polemica che poi mi dicono in consiglio comunale è becera ma se non ci avessero lasciato 32 milioni di euro di disequilibrio perché ci siamo comperati OMB International di campus ne facevamo tre non uno tre quindi non si può chiedere a noi che non abbiamo soldi e di fare cose che altri avrebbero potuto anticipare ma non hanno dovuto i soldi ma io rispetto le scelte dell'amministrazione Paroli perché ha ritenuto diversamente da noi di impiegare le risorse in un'altra maniera ormai è passata non ritorniamoci più sopra ci siamo trovati con questo disequilibrio facciamo fatica a come che posso dire a promuovere a garantire i servizi sociali non possiamo trovare questi soldi se dovessimo scoprire che da una parte all'altra ne dico un'altra noi quest'anno abbiamo garantito il trasporto pubblico locale senza il contributo regionale del TPL va bene non prendiamo un euro sulla metropolitana ci siamo accorti dall'aumento del biglietto quindi da questo punto di vista qualche cosa possiamo fare abbiamo dovuto anche qui tenere in ordine il bilancio aumentare di 0,20 il biglietto abbiamo dovuto fare alcune operazioni senza forzare più di tanto senza forzare più di tanto e abbiamo detto in consiglio comunale che per quest'anno non ce la facciamo che abbiamo chiesto al ministero di come che posso dire bloccare per qualche mese per tutto l'anno 2015 questa opportunità questa opportunità se durante l'anno si dovessero materializzare alcune condizioni che ci consentono di avere un avanzo di bilancio è una delle cose sulle quali abbiamo promesso di discutere ma è confermato l'appuntamento del sindaco con il ministro è confermato il sindaco ha già fatto tre discese a Roma parlando con Cassa Depositi e Prestiti parlando con il ministro parlando con il sottosegretario su questi temi purtroppo la situazione nazionale è quella che è non è solo così per noi è così per tutti per tutti i comuni e l'incontro è martedì sì e l'incontro è martedì noi facciamo un ultimo sforzo perché non lasciamo intentato nulla questa città negli ultimi vent'anni Maria Chiara Fornasari è giovanissima non si ricorda ma se a Brescia c'è l'università è perché da 25 anni il comune mette immobili fa strade fa servizi regala o da incomodato alcune situazioni perché mai non dovremmo farlo adesso perché mai non dovremmo farlo adesso purtroppo adesso abbiamo questa situazione economica siccome il tempo corre passa subito a Fornasari i soldi non ci sono mi sembra che la risposta del capogruppo Capra sia chiarissima il campus non si fa perché non si fa? perché non è una priorità in città quindi sappia l'università sappiano gli studenti sappiano i cittadini che per la giunta del Bono l'università intesa a Tukur non è una priorità non importa se col campus avremmo portato centinaia di studenti togliendoli magari anche alle sedi di altre città vicine come Bergamo e Verona non importa se avremmo riqualificato ulteriormente la zona del Carmine non importa se avremmo riqualificato un immobile fatiscente non importa se gli studenti avrebbero utilizzato gli autobus alla metropolitana quindi con maggiori introiti avremmo magari riportato i biglietti dell'autobus e i costi del parcheggio dei parcheggi a un livello normale non importa alla loggia non interessa il campus non si fa non ci sono i soldi allora innanzitutto al comune non veniva chiesto di stanziare 9 milioni di euro oggi o ieri ma almeno quei soldi necessari per la progettazione esecutiva del campus quanti? un milione diciamo un milione qualcosa di meno diciamo un migliore che è scusatemi ma una cifra che sul bilancio del comune di Brescia pesa in maniera assolutamente risibile sul campus non c'è che da posare la lapide io l'ho detto in modo molto chiaro in un comunicato stampa perché il progetto campus è morto perché nonostante il ministero abbia proposto di regalare al comune di Brescia 13 milioni di euro il comune non trova non vuole trovare non ce l'ha anche provato un milione di euro per la progettazione siccome il termine per presentare il progetto esecutivo è i primissimi di febbraio ovvero 240 giorni dopo la delibera diciamo del ministero che eroga questi soldi direi che praticamente ci siamo manca poco più di un mese quindi diciamocelo chiaramente niente campus niente campus oggi e niente campus domani perché se non facciamo il campus oggi con 13 milioni di euro regalati non lo faremo mai neanche domani quando questi 13 milioni di euro non ce li regaleranno più sempre che martedì non arrivi una risposta positiva sì peraltro voglio assicurare che il campus siamo a fine anno voglio dire se si poteva pensare anche un attimo prima vorrei assicurare che il campus non è ancora santus nel senso che non è ancora il campo santo e non è ancora morto il problema è che non ci sono le risorse lo ripeto ancora una volta se non fosse chiaro quello che ha detto la collega lo ripeto poi nemmeno pubblicità perché se no le risorse non le abbiamo noi se non fosse ancora chiaro quello che ha detto Fornasari non abbiamo i soldi anche un milione di euro quelli della progettazione non li abbiamo a meno di tagliare posti nelle case di riposo posti negli asili unido servizi sociali per la popolazione c'è anche tanto altro da tagliare non devi solo tagliare me lo dice dopo la pubblicità dove si può tagliare e recuperare questo milione a tra poco per l'ultima parte di Pix Qua la discussione ovviamente prosegue sempre durante le pause pubblicitarie dove si poteva tagliare? Si può tagliare in tante voci noi l'abbiamo fatto anche in passato per evitare di alzare la tassazione eccessivamente ma ci sono questi soldi che si possono anche andare a chiedere altrove si possono andare a chiedere alla cassa depositi e prestiti si possono andare a chiedere all'università si può andare a chiedere magari all'associazione industriale di Bresciane ci sono sbocchi e interlocutori opzionabili è chiaro che se questi interlocutori non si opzionano questi con noi non parlano con la loggia non parlano questo è molto chiaro Ma abbiamo ancora sette minuti Mauro su questo fronte sono due posizioni totalmente diverse insomma Campus sì Campus sì Non è l'unico argomento su cui le posizioni sono diametralmente opposte sulla questione Campus io credo che per come è prospettato in questo momento perché stiamo parlando di 197 alloggi universitari eventi di housing sociale stiamo parlando comunque di un solo del 40% dell'intera area della randaccio interessata alla cosa tutta residenzialità né un teatro né un laboratorio niente solo camere solo camere per cui è vero che chiamarlo Campus in questo momento è un po' arbitrario allora stante la situazione per come è prospettata per le tempistiche che presenta secondo me non ha possibilità di proseguire questo progetto pensare che il comune che per il 2015 ha stanzato in opere pubbliche 15,5 milioni né stanzi 9,5 più del 50% per questa cosa è francamente difficile pensare uno solo per la progettazione adesso uno solo non era richiesto per la progettazione adesso io parlavo di questi 9,5 milioni che francamente non riesco a capire dove si possono andare a prendere ha detto bene su 15 milioni di opere di lavori pubblici che sono una miseria perché quando facevo l'assessore della giunta Corsini i lavori pubblici di un anno sommavano fra i 70 e gli 80 milioni di euro è perché proprio non ci sono risorse ragazzi non ci sono ma sapete che solo i trasferimenti dello Stato della Regione sono passati negli ultimi tre anni da 36 milioni che ci davano a 4 milioni quest'anno allora sapete che i dividendi dell'azienda sono passati da 40-50 mediamente ogni anno a 30-11 l'anno scorso allora in una situazione di questo genere un amministratore non fa mai il passo più lungo della gamba fa il padre fa il buon padre di famiglia pensa ai bisogni primari e il resto lo lascia a tempi migliori punto posso fare solo una postilla io ricordo che quando il governo e la loggia erano dello stesso colore il sindaco Paroli e l'assessore al bilancio di mezza presero le loro valigie e andarono a Milano per portare a casa la clausola salva Brescia invece di svendere o di in fretta e furia in una notte vendere lo 0,25% di Iadua per portare a casa 7 milioni per mettere un cerotto sul bilancio quindi oggi il monocolore è PD loggia e governo quindi io credo che un'interlocuzione un pochino più intensa tra un governo renziano e un sindaco che si dichiara renziano potrebbe la nostra città fare solo bene Allora abbiamo 4 minuti lasciamo la polemica pensiamo al 2015 quale sarà il grande tema il principale tema Ma allora i temi sono due ovviamente abbassare il flap dei consigli di quartiere perché decollino così da superare il flop delle elezioni come è stato detto dai colleghi a centro-destra cioè che questi rappresentanti devono incominciare a percorrere i quartieri e a capire quali sono i bisogni della popolazione uno il secondo è quello di fare il bilancio 2015 la previsione di dividendi è scarsa risorse di trasferimenti non ce ne sono non si vuole aumentare le tasse perché secondo noi sono già troppo alte anzi se si potesse sarebbe meglio scendere in queste condizioni bisogna fare un bilancio di manutenzione nel quale ha già detto l'assessore ai lavori pubblici Mucchetti i lavori pubblici si attestano ad una quota bassa ma sicura l'altro tema molto importante è l'avvio che peraltro incomincerà in questi giorni e quindi la conclusione delle bonifiche nelle scuole e nelle parti più sensibili della città e il tema dei temi sarà sicuramente quello che porterà a discussione in corsia comunale la raccolta differenziata sulla quale abbiamo speso tempo forse un po' troppo ma il tema è delicatissimo perché è una rivoluzione quindi dovremo discutere con i cittadini questa è una città che è passata dalla metà era la metà della differenziata al 38% in questi 10-12 anni abbiamo perso coscienza civica si ricicla poco e la differenziata è molto bassa bisogna differenziare di più quindi la discussione attorno alle calotte al porta a porta che non ci appassiona più di tanto ma una decisione vera presa quello che noi diciamo è questo due risultati da cogliere il maggior livello possibile di differenziata ci diamo per l'anno 2016 il 60-65% e non aumentare la tariffa ce la faremo? questa è la grande sfida del 2015 Fornazzari per lei i grandi temi a Brescia quali saranno? noi a Brescia abbiamo una sfida molto importante che è quella di ridare al centro-destra unito-unitario un'immagine credibile una sembianza non che non abbiamo rappresentanti credibili nella maniera più assoluta ma inteso come squadra dobbiamo ritrovare una sorta di dialogo unitario lo stiamo già facendo lo fa il gruppo consigliare che ha iniziato una serie di iniziative sul territorio insieme agli altri partiti dell'opposizione per ascoltare i cittadini lo facciamo anche noi a livello di segreterie cittadine e provinciali ma quello che mi compete è la segreteria cittadina abbiamo già avuto un incontro importante con tutte le segreterie dei partiti e delle liste civiche che in questo momento è la lista civica di Nini Ferrari ma che auspichiamo siano di più appunto per cominciare a costruire una piattaforma comune ancora prima di andare a individuare e a tratteggiare il profilo di quello che potrà essere il candidato sindaco della loggia 2018 ancora prima di questo dobbiamo creare a supporto del candidato una piattaforma di contenuti che stiamo lentamente costruendo sulla loggia noi abbiamo un puntualissimo un puntualissimo gruppo consigliare che sta su tutte le partite che non sconta niente a nessuno né al sindaco né alla giunta quindi sulla loggia presidiamo e siamo soddisfatti Mauro dal punto di vista mediatico dei giornali qua si è detto non interessano le cose reali poco i titoli ha detto prima andare alla sostanza e poco i titoli però i titoli ci saranno immaginiamo viste queste questioni elencate anche da capra beh ma sicuramente la carne a fuoco è tantissima il 2015 si prospetta comunque ancora indubbiamente come un anno difficile perché comunque da un punto di vista della contingenza economica probabilmente non cambierà moltissimo il tema di fondo rimane sempre quello dell'eseguità delle risorse per quello che riguarda la loggia quello che però io voglio dire voglio spiegare è che girando per la città ascoltando guardando gli stessi manifesti che vengono fissi mi sembra che ci sia un clima da campagna elettorale permanente permanente abbiamo titolato anche noi Brescia l'aria è cambiata per capire quello che ti stai riferendo tu siccome salvo cataclismi terremoti che non sono alle viste alle amministrative manca ancora tra anni e mezzo io credo che quello che penso debbano augurarsi tutti i cittadini che da un punto di vista del rapporto tra le forze politiche di opposizione e di maggioranza si possono trovare dei punti in realtà di condivisione forte su alcuni temi perlomeno questo è l'auspicio che mi sento di fare ci lasciamo quindi con questo auspicio per il 2015 facciamo gli auguri io volevo approfittare dalla vostra ospitalità per fare gli auguri di buon Natale anno nuovo ai telespettatori in generale a tutti i cittadini bresciani che ci sopportano qualche volta per il nostro eccesso di polemica ma questa polemica e questo lavoro questo impegno è dettato dall'amore credo che sia da parte di tutti i consiglieri non solo i nostri nei confronti della città quindi che sia un buonissimo Natale per tutti sperando che sia l'ultimo della crisi e un 2015 foriero di successi non per noi ma per la città anche una leggera ripresa andrebbe già bene grazie vuole fare gli auguri i miei auguri io li faccio a tutti evidentemente li faccio alla stampa che ci segue sempre in maniera molto precisa e anche molto paziente perché a volte gli chiediamo davvero degli sforzi di pazienza importanti e di questo gli va dato atto quindi i miei auguri a loro e i miei auguri al sindaco al sindaco del Bono che abbia voglia dal 2015 di essere un pochino di più il sindaco di tutti anche il sindaco dell'opposizione e ci ascolti un po' di più gli auguri anche a Mauro deve farli anche lui adesso li hanno fatti tutti faccio gli auguri di buon Natale buon anno a tutti i telespettatori di Brescia.tv e anche del Brescia Oggi che continuano a leggere e elettori di Brescia Oggi grazie a tutti voi per averci seguito grazie ai nostri tecnici che ci mandano in onda grazie ai nostri ospiti e anche a tutta Brescia TV tanti auguri di buone feste ci vediamo nel 2015 a presto a presto Grazie a tutti.